Al via gli eventi natalizi nelle sette vie di Como che hanno ottenuto il finanziamento dal bando multimisura del distretto urbano del commercio. Tra queste anche via Borgo Vico Vecchia, che si trasforma in un grande libro parlante ispirandosi al romanzo I viaggi di Gulliver. Ogni negozio ha esposto in vetrina un'opera del racconto illustrato. Laboratori, dimostrazioni, degustazioni nelle botteghe e nei negozi per conoscere l'arte e la sua tradizione. Dalla mattina fino alla sera sono state moltissime le persone arrivate in via Borgo Vico, spiega Esther Negretti, presidente dell'associazione Borgo Vico Street, un inizio più che positivo per il rilancio di uno dei quartieri storici della città e tra i più amati dai comaschi. Al centro di eventi e manifestazioni natalizie anche Piazza Volta, con lo spettacolo di giocolieri e artisti circensi. Via Garibaldi diventa un bosco incantato. 30 alberi, trattigli, gelsi e aceri, illuminati con oltre 3 chilometri di filamenti a LED per creare un'atmosfera natalizia. In pieno centro storico, tra il Teatro Sociale e via Vittorio Emanuele, via Porta si trasformerà in una galleria floreale con archi vegetali e illuminati. Coro gospel all'Officio della Musica, in via Giulini, mentre da Piazza Duomo a Piazza Verdi arriva la Pieri Shopping. Degustazione di prodotti del territorio e una volta a settimana un concerto di musica tradizionale dal vivo.